Siamo alla pentatonica nella primaria che è questa la sgraniamo con gruppi di note sempre di numero maggiore partiamo da una nota 2 3, 4, 5, 6, 7 e così via la stessa cosa tentiamo di farla anche in discesa e così via è un ottimo modo per memorizzare perfettamente la scala le 12 misure blues in open tani in open d il primo grado si fa così le ultime tre corde il quarto grado si fa così scalando di una corda il quinto grado si fa così sempre scalando di una corda quindi usando sempre tre dita per la ritmica il turn around si suona le prime due corde e si finisce con il quinto grado la ritmica completa quindi sarà così primo grado passiamo al quarto e torniamo al quinto grado il primo grado e torniamo al quinto grado il quinto grado il quarto grado il primo grado e torniamo al quinto grado il primo grado il primo grado che si fa così Grazie a tutti.